In questo numero... Approvato il piano sanitario. Il 2 aprile il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno sull'autismo e ha proseguito l'esame degli emendamenti al piano sociosanitario, licenziato poi a maggioranza il giorno successivo. In apertura di seduta al 3 aprile l'Assemblea legislativa regionale ha commemorato l'ex consigliere Domenico Conti, deceduto a Torino il primo marzo scorso e ha votato alcune nomine.